Quello che non deve mancare è l'approccio, la mentalità e il coraggio che abbiamo avuto a Cagliari, quelle non devono mancare mai, poi ogni partita ha una storia a sé, sarà una partita completamente diversa, una squadra completamente diversa e contro una squadra completamente diversa e quindi di conseguenza la partita sarà tutta un'altra storia. Però non è così scontato che dopo una prestazione del genere tu possa riperderne un'altra in tal senso, anche e soprattutto perché le condizioni della partita sono condizioni completamente diverse. L'Ascoli è in un momento credo positivo, viene da buoni risultati, è una squadra che ha bisogno di punti e quindi di conseguenza non credo che sia la squadra che venga qui a giocare a viso aperto, credo che sia la squadra che venga qui a cercare di portare via dei punti, soprattutto con l'idea di difendersi per poi cercare di colpire sulle ripartenze in contropiede. Per noi tutte le partite sono uguali, per me gioca chi sta bene, quindi se la padula sta bene gioca, se vedo che è stanco o che ha dei problemi gioca un altro, ma non guardo la prossima partita, guardo partita per partita anche perché abbiamo necessità di vincere, sono state fatte delle leggi, per consentire ai sostenitori delle proprie squadre di seguire la squadra, se si fa una cosa del genere e poi non gli si consente di andare in trasferta, è una cosa che non ha senso. Cioè c'è un bellotico? Sì, e quindi ne viene meno lo spettacolo, a me dispiace per i tifosi in generale, poiché che siano del Pescara o dell'Asco, che comunque sono sempre tifosi, in questo caso dispiace come è dispiaciuto per i nostri tifosi in occasione di Salerno e altre trasferte, la ritengo una cosa ingiusta.